Più Europa per la Puglia in vista del Congresso Nazionale del prossimo febbraio. L'obiettivo è strutturarsi e radicarsi e per questo il deputato Riccardo Maggi è atterrato a Bari per un incontro con i sostenitori pugliesi del partito. Tanti i pilastri su cui si fonde il rilancio del progetto, dall'Europa ai diritti civili e l'ambiente, passando per il sostegno delle nuove generazioni. Anche perché Più Europa avrà un congresso nazionale nel mese di febbraio e noi vogliamo radicarci a partire dalle regioni nelle quali siamo stati un po' meno presenti, ma comunque abbiamo avuto dei risultati significativi. Ci sono già dei gruppi che si stanno attivando, che si costituiranno formalmente. In alcune realtà locali, penso ad esempio a Canosa abbiamo avuto risultati significativi, intorno a poco meno del 10%. Questi sono realtà da cui partire per rilanciare un progetto che è un progetto liberale, europeista, ambientalista, molto attento ai diritti civili, ma anche alla transizione ecologica, alla parità di genere. Crediamo un altro punto di forza sia quello del sostegno delle nuove generazioni. Noi siamo uno dei partiti che in proporzione ha ricevuto di più il voto dei più giovani, cioè molto spesso di coloro che votano per la prima volta la fascia tra i 18 e i 34 anni.